Quando Francesco mi ha proposto questa cosa ho detto è una cosa che non ho mai fatto, però perché no? Io sono anche un po' temeraria, dico io ci provo e poi soprattutto ci provo con l'intenzione di esservi utile perché io quello che so, quello che ho fatto, il mio percorso lo metto a vostra disposizione. Voi potete, dovete considerarmi come un'amica un'amica che sta dalla parte vostra quindi iniziamo questa cosa io ho avuto la possibilità di vedere, di notare che avete delle ottime di segnali quindi già da lì è un buon punto di partenza io cercherò di magari così, di dire qualcosa di dare un consiglio, di avere un punto di vista magari più diverso però indubbiamente costruttivo ma soprattutto spero tanto che sia costruttivo per voi per voi e io, ripeto, sono qui a vostra disposizione Grazie 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 Grazie